Campania finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia. Ben ritrovati al notiziario delle quotazioni dell'olio extravergine di oliva del 25 agosto. È oramai una costante l'aumento delle quotazioni dell'olio extravergine nazionale. Anche se di poco, in questa settimana, si è avuto un incremento di 10 centesimi. Come più volte detto, le cause sono nella limitata disponibilità di prodotto e nell'aumento dei costi dei servizi. Le scorte di olio saranno probabilmente sufficienti fino alla nuova campagna olivicola, peraltro prossima. Un'annata che si presume in leggera diminuzione quantitativa, ma con buone rese in olio e nella qualità. Nella grande distribuzione, intanto, i prezzi a scaffale dell'olio extravergine di oliva non hanno avuto incrementi vistosi. A valori che raggiungono i 14 euro-chilo, si trovano anche extravergini a 6 euro-chilo. Questi risultati sono conseguenza di contratti stipulati a inizio anno. I veri aumenti si avranno a partire dall'imminente campagna di molitura. Decisamente variabile l'andamento delle quotazioni che oscillano nei diversi mercuriali fra i 6,80 euro e gli 11,50 euro-chilo di Verona e i 6,30 euro-chilo di Milano. Diverse le oscillazioni che si registrano in centro Italia, dove per l'extravergine a scaffale si va dai 6,20 euro ai 12,70 euro-chilo di Firenze, ai 6,90 euro-chilo di Perugia. Non dissimile la situazione nel Sud Italia. Valori minimi di 6 euro e massimo di 10,50 euro-chilo a Bari. 6,20 euro minimo 13,00 euro-chilo massimo a Cagliari. Ne risulta una media dei valori minimi di 6,32 euro e una media dei valori massimi di 11,99 euro-chilo. Mercati esteri Scarse le contrattazioni anche sui mercati esteri, per limitata disponibilità di scorte. Previsioni di produzione nettamente inferiori rispetto a normali annate. I valori non superano gli 8,70 euro-chilo per il prodotto portoghese, sino a scendere ai 6,90 euro-chilo per quello turco e egiziano. Nel ringraziarvi per la viva e cortese attenzione, vi do appuntamento alla prossima settimana. Campania finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia.